Buono Si Nooo Ma cosa fa che è bello? Non è? Togli il registratore Allora non ti serve l'acqua tonica Non si fa un certo rumore molesti Quando non sta registrando Ma puoi rimettere il frigo Buono Eh? Ma la luce E tonno eh? Non è scatola per cani eh? Tonno? Eh si è Per le 5 5 della mattina eh? A pomeriggio eh? Ci vediamo Cibo sano Ho fatto la pizza che ti ha fatto a te prima